Benvenuti, cari follower. La fine del caldo e il forte ritorno dell'inverno in Italia, a partire da domani, domenica 23 giugno 2024. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante. Mi piace per questo video, per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Quindi, a partire da domani, domenica, le temperature caleranno in maniera molto significativa al nord Italia, mentre al nord cominceranno a cadere piogge abbondanti, con forti venti, tempo molto brutto e forti temporali, soprattutto nelle zone vicine al Mar Ligure. Questi temporali aumenteranno di intensità nel corso della serata e saranno accompagnati da grandinate, con il rischio di piene improvvise. Pertanto le zone interessate dal maltempo domani sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana Marche. Si avverte con forza il pericolo alluvioni e il pericolo grandine, soprattutto nella regione Liguria, nel sud della Lombardia e di Trento Alto Adige. Toscana settentrionale, nord-ovest dell'Emilia Romagna. Questi temporali aumenteranno di intensità entro la tarda notte di domenica e saranno improvvisi, quindi è fortemente richiesta la massima cautela. Cercheremo di comunicarvi altre notizie importanti in seguito.